Hola a tutti ragazzi sono il vostro Luke e oggi finalmente siamo tornati qui nell'OPPryson 1.12 Ebbene si ragazzi questo qui è il mio server lupacchiotticraft come voi ben sapete E sono qui nella zona plot giusto casualmente perché questa mattina che sono le 6 Stavo controllando un po' le costruzioni che avete fatto così per sfizio e sono davvero carine Ma tralasciando questo ragazzi volevo dirvi qualcosa di davvero importante Volevo parlare di tutti gli aggiornamenti ma soprattutto volevo invitare a fare una cosa Ragazzi coloro che non seguono il canale telegram fatelo subito Andate in descrizione, già che siete nella zona potete anche lasciare un bel like Aprite il link del canale telegram e lo seguite ragazzi perché lì troverete tutte le novità riguardanti appunto il server, il mio canale e tante belle cose Infatti ragazzi qualche giorno fa c'è stato il primo evento Infatti caduto dal cielo io intanto ti saluto perché si è andato un po' in crisi Ok, stavo dicendo ragazzi Qualche giorno fa abbiamo fatto il nostro primo evento che era un evento labirinto che è iniziato con molti fail Ma poi è terminato in bellezza perché molti di voi hanno trovato tanti token e sono stati davvero contenti Quindi mi fa piacere che vi sia piaciuto l'evento Nonostante si è iniziato con un po' di lag ragazzi perdonatemi ma vi ripeto Era un labirinto ragazzi gigante e quindi ci stava che faceva un po' fatica a caricare tutti i chunk Perché soprattutto ragazzi io e David quando l'abbiamo messo non l'abbiamo esplorato tutto Quindi dove andavate voi per cercare le chest era una zona inesplorata quindi è ovvio che ci pettevate più Però tralascendo questo ragazzi volevo andare avanti con gli aggiornamenti molto velocemente Perché non so quando vi caricherò questo video proverò stesso oggi nella giornata ma credo che non ci riuscirò Comunque ragazzi volevo dirvi una cosa importante Volevo ringraziare tutti i VIP assolutamente perché ragazzi ci sono all'incirca 5-6 VIP Più quelli che hanno comprati il pacchetto di Kay Penso che farò un video apposito per ringraziarli però per il momento faccio un ringraziamento generale Perché ragazzi grazie ai vostri soldi dei VIP possiamo sostenere il server Soprattutto ragazzi come voi ben sapete perché è soprattutto più online abbiamo fatto anche un upgrade del server Abbiamo sistemato i vari crash abbiamo sistemato i vari bug che ci segnalate e ragazzi davvero vi ringraziamo Ricordando i VIP ragazzi volevo ricordarvi una cosa in caso di pagamento tramite PaySafeCard ragazzi Ovviamente noi preferiamo PayPool perché è più veloce dovete contattare me o David su Telegram Ovviamente come fate a sapere il mio nick di Telegram? Beh ragazzi è molto semplice Chiocciola Luke17YT quindi è molto easy lo potete trovare come volete Altra cosa importante potete contattarci anche per vari consigli, vari lamentele, bug da riportare eccetera Poi a livello di gravità del bug ragazzi daremo anche un premio Quindi mi raccomando siate molto attenti e soprattutto corretti Se trovate dei bug non li sfruttate venitecelo a riportare subito Se no il premio va attaccato alla minchia Comunque tralegendo questo ragazzi altre novità Per coloro che non seguono Telegram sono l'upgrade del Warp A In che senso? Una volta ragazzi nel Warp A potevate farmare con un inventario misto all'incirca 7000 euro Perché vi ricordo il server è basato sugli euro 7000 euro Mentre ora dopo l'upgrade ben 15000 Stessa cosa sempre nel Warp A Prima con un inventario intero di carbone riuscivate a fare all'incirca sui 10.000 Adesso sui 25.000 Quindi ragazzi c'è stato un grandissimo upgrade Molti di voi già sono arrivati ai rank I, rank B, C Tutti i rank praticamente senza fare l'elenco E quindi ragazzi apprezzo davvero molto il rank Il nerding e tutta la fiducia che state dando a questo server Altra cosa importante ragazzi è questo Andiamo tutti insieme al Warp Crate E possiamo notare una cosa davvero importante Ossia che sono state aggiunte le Vot Crate Sì Ebbene sì ragazzi adesso facendo il comando slash Vot Potete vedere il link dove cliccandoci Ovviamente io adesso non ci vado Vi porterà al sito ufficiale di Minecraft Italia Dove c'è il nostro server da votare Votando ragazzi potrete ottenere una key Che dovete selezionare sul sito E poi fate il slash premio ritira Che ora non serve che lo faccia perché vabbè Non ho nessuna key Mentre abbiamo raggiunto anche le rank up key Quindi adesso rankando otterrete questa key da poter sfruttare E come vedete ci sono comunque delle buone ricompense 50 token, 100 token, le crazy crate key Dei picconi speciali, oro e tanta bella roba Molti di voi ragazzi hanno detto Luke ma secondo te quanto durerà questo server? Io credo durerà ancora tanto Questo perché Uno Abbiamo ricevuto diverse donazioni E messaggi di tra virgolette di fiducia Due Stiamo settando tutta la perfezione Quindi ragazzi io credo proprio che questo server può andare molto avanti Molti di voi ci credono E questo è davvero importante Altra cosa ragazzi per i nuovi che non sanno come funziona Facendo slash trade Che io ora non faccio perché sennò escono una sfilza dei comandi Facendo slash trade potrete fare gli scambi che volete con le persone che volete Quindi saranno degli scambi sicuri Perché ragazzi vi ripeto la truffa è illegale Quindi se verrete truffati in un altro modo Tipo upgrade di account eccetera Fate gli screen e ci li mandate a noi personalmente Comunque sappiate che è una cosa illegale E quindi abbiamo aggiunto il plugin apposta per farlo legalmente Detto questo ragazzi questi sono gli aggiornamenti principali Per averne altri Per avere notizie riguardanti eventi Cosa aggiungeremo Perché manutenzione eccetera eccetera Rimanete collegati all'account Telegram Mio o di David Ma soprattutto al canale Telegram Dove pubblichiamo tutte le news mi raccomando Detto questo vi invito a lasciare un bel like ragazzi Commentare il video Condividetelo Io vi aspetto nel server E ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti